i i i hola a tutti ragazzi sono il vostro luke e oggi siamo qui in questo brevissimo video sul mio server però non vi porterò il gameplay sul server anzi ragazzi andate a vederlo stasera è un pil... diciamo chiamiamolo vlog veloce spero riesco a rientrare... ok allora è un piccolo vlog veloce per annunciarvi una cosa molti di voi me l'hanno chiesto quindi ve lo dico ragazzi fatemi qui in descrizione le domande per il nuovo fact time mi raccomando ragazzi non domande uguale a quelle del vecchio perché in caso che sono uguali andate a vedere quello e se ne me ne fate le nuove e poi se sono uguali non le sceglierò neanche io... wow è uscito troppo figo e non le sceglierò neanche io perché se sono uguali sono uguali quindi non c'è bisogno di rispondere dieci volte spero che non sentite il mio canabaya come al solito però vabbè un'altra cosa è ragazzi avete notato che youtube sta facendo degli scherzetti io metto la pianificazione del video per per esempio per l'1 e mezza i bimbi per l'1 e mezza però me lo carica verso le 2 e mezza me lo pubblicizza e non è un errore mio è un errore di youtube purtroppo che sta avendo diversi problemi nei miei confronti ma non solo ho sentito anche altre lamentele quindi per ritornare a me che esce un po più tardi voi andate sempre a controllare l'1 e mezza poi anche quello delle 7 per esempio ieri sera è uscito alle 7 20 se non mi sbaglio è sempre dovuto a questo problema quindi ragazzi spero che youtube risolverà velocemente voi sapete che dalle 7 poi pubblico video serale sapete che dall'1 e mezza in poi ci sarà il video pomeridiano quindi ragazzi non ho nient'altro da dirvi mi raccomando scrivete qui sotto con hashtag hashtag non così siete più felici hashtag fact time ok oppure anche hashtag basta mi fate la domanda è preferibile hashtag fact time così vedo meglio tra tutti i commenti e mi fate una domanda qualsiasi per esempio mi ci fai vedere i nostri animali domestici subito sarà fatto raga e vabbè però ragazze cose allora facciamo così mi dispiace mute shadow 50 secondi dai e no raga perché si insultano tanto mi gustano comunque poi mi rilegistro vabbè lasciamosa dopo spiego a loro ok vi ho detto tutto quindi fate le domande fate tutto mi raccomando ci becchiamo al prossimo video lasciate like commentate condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale ci becchiamo alla prossima e ciao ciao